Ciao, sono David Cardano, mi occupo di psicologia, scienze motorie, mental training e coaching e con questo video disidero parlarti delle 10 strategie della manipolazione attraverso in mass media. Un argomento molto interessante che forse oggi più che mai è degno di essere commentato, valutato, condiviso e poi ognuno di voi potrà trarre le proprie giuste conclusioni personali e soggettive. Vi posso solo garantire che tutto questo non è fonte delle mie idee ma è di un grandissimo ricercatore, linguista, filosofo, teorico della comunicazione Namczowski da cui si possono prendere tanti spunti di riferimento. La prima tecnica è la strategia della distrazione e consiste nel deviare l'attenzione del pubblico dai problemi importanti, quindi chi detiene il potere molte volte utilizza questa tecnica della distrazione per spostare appunto l'attenzione del popolo. La seconda strategia è creare problemi e poi offrire soluzioni. Chi detiene il potere molte volte utilizza questa tecnica dove si crea un problema, si ha quindi una reazione da parte del popolo e il governo poi giustamente propone una soluzione, una soluzione quasi sempre a vantaggio di chi detiene il potere. La terza strategia è quella della gradualità. Eh sì, proprio così signore. Per far accettare una misura inaccettabile basta applicarla gradualmente, quindi un po' per volta e cominciamo con una limitazione, con una regola, con un decreto, con nuove ovviamente e continue regole graduali fino ad arrivare giustamente a farle accettare. La quarta strategia è la strategia del differire. Questa strategia è la decisione è dolorosa ma necessaria. Ma guarda un po', ancora una volta nulla è a caso e anche in questo periodo storico forse abbiamo avuto l'evidenza di questa strategia del differire. La decisione è dolorosa ma è necessaria. Facciamo passare questo messaggio. Poi abbiamo la strategia del rivolgersi al pubblico come dei bambini e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro e dobbiamo lavarci le mani. Ci insegnano come lavarci le mani, come se fossimo dei bambini all'asilo e quindi si usano discorsi, argomenti, personaggi anche famosi, mediatici, molto seguiti da alcuni anche magari stimati, per proporci delle situazioni di una puerilità imbarazzante e utilizzando anche un'intonazione infantile proprio per darci questo messaggio, rivolgersi a noi, pubblico, popolo, come dei bambini. Poi abbiamo la strategia dell'usare l'aspetto emotivo ovviamente, fondamentale questa. Sfrutto l'emozione per evitare l'analisi razionale, quindi le emozioni più importanti utilizzate in questo periodo storico non solo sono la vergogna, il senso di colpa, la paura. Vergogna, senso di colpa e paura, l'emozione per evitare un'analisi razionale e una presa di coscienza di una situazione che magari sarebbe da vedere con un po' più di logica. Poi abbiamo la settima strategia, mantenere il pubblico nell'ignoranza e nella mediocrità, cioè far sì che il pubblico sia incapace di comprendere la manipolazione ed ecco che arrivano i famosi dottoroni, i virologi, il comitato tecnico che millanta di avere soluzioni e che giustamente molte volte ce le propone anche con una modalità difficile da comprendere mantenendoci nell'ignoranza, facendoci sapere solo quello che si desidera e mantenendo un livello di mediocrità e chi tenta di ovviamente differenziarsi da questa mediocrità viene immediatamente additato usando le leve del vergogna, senso di colpa, disagio e paura. L'ottava strategia è stimolare ad essere compiacenti con la mediocrità e quindi è molto di moda a oggi essere un po' volgari, ignoranti, atteggiamenti infantili, puerili, definiti anche stupidi, in modo tale da poter farsi che tutto questo si espanda a livello virale. Poi abbiamo la strategia numero nove, rafforzare l'autocolpevolezza, l'ho detto poco fa, siamo gli unici noi i colpevoli responsabili delle nostre disgrazie, quindi noi siamo gli untori, siamo coloro che se non facciamo ciò che ci è stato detto uccidiamo le persone, quindi siamo noi gli unici colpevoli delle disgrazie. E infine conoscere gli individui meglio di quanto loro stessi si conoscono. Qui devo aggiungere semplicemente che con tutte le informazioni presenti nel web, con tutti i social a cui noi, io per primo appartengo, ci sono persone che mi conoscono quasi meglio, io conosco me stesso e anche magari altri conoscono meglio se stessi, quindi si rafforza il divario tra la gente comune e la elite dominante, la quale attraverso tutti gli strumenti che oggi sono a disposizione ha un potere, una conoscenza, un database che fa veramente paura sotto tutti i punti di vista. Bene, io con queste dieci strategie di Chomsky vi saluto e vi voglio solo fare riflettere. Riflettete su questi studi non di David Cardano ma di grandi ricercatori, filosofi, linguisti, esperti nella comunicazione e sappiate che questi argomenti vengono anche approfonditi attraverso un percorso che si chiama Mental Trainer Academy, un'accademia che forma Mental Trainer professionisti, rende liberi, la verità rende liberi, la conoscenza obbliga e condiziona, ma in questo caso verso la libertà. E quindi se volete qualche informazione in più andate sul sito www.mentaltraineracademy.com. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona vita e a ognuno le sue riflessioni.